100.000 mi piace e compro la maglietta della Kashiwa Resort, oppure della Kawasaki Front Lo faccio per voi Benvenuti nel posto di Garbo, eccoci qua tornati finalmente in un nuovo video Siamo tornati incredibilmente con la nuova programmazione Perché questa volta partiamo con FIFA FIFA 17 con la carriera di Benji E ci sono delle news importantissime Perché è arrivata l'offerta di un prestito Dalla Kawasaki Front alla Kashiwa Resort Che nella prima fase del campionato giapponese era prima in classifica E infatti ho accettato anche perché davvero La Kawasaki era in una situazione davvero orribile Nessuno che segnava, anzi ero io l'unico che segnava E no, non ce se la poteva fare E cosa molto importante Possiamo andare a vincere il campionato Ma soprattutto siamo ancora in corsa Per la Coppa Italia Diciamo, chiamiamola così, giapponese Per la Leven Cup Quindi ragazzi adesso andiamo con la partita di ritorno In casa nostra Questa qui è da vincere proprio Speriamo, speriamo Script permettendo Script permettendo Cristiano Magari fosse Ronaldo Ok, adesso siamo in casa Leven Cup è stadio Presidente Gelopes Ci siamo, ci siamo Pablo Escobar c'è Itachi per noi Sponsor, andiamo così Pubblicità occulta Umbro Ok Quante stelline hanno le squadre? Quattro stelle La Kashiwa Reisole Poi il Gambo Osaka Mi sembra di averne veste tipo Sette di stelle Ma no Già hanno vinto Settanta campionati Boh Oppure che ogni campionato che vincono Là in Giappone Mettono una stella Non come qua da noi in Italia Che mettono una stella ogni dieci Prova Troppo alto Troppo alto Però ci stava Perché c'è una Noca Sulla schiena Nello sponsor Va bene Ok Belle queste magliette Mi piacciono proprio tante Centomila mi piace E compro la maglietta Della Kashiwa Reisole Oppure della Kawasaki Fromm Lo faccio per voi Bello de nonna Bello de zia Mmm Mannaggia Ma chi non ti porta via Dai 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 Che cazzo dovete fare Torello tra di voi Mamma mia Puttana Ma che cazzo sbagli No vabbè No vabbè Quell'altro incoglionito Che ha Eh vai vai Ha fatto un 69 L'avete visto anche voi Eh Gli ha fatto un 69 Questo qui è porno su Youtube Guarda lì Guarda lì poi quell'altro Incoglionito La fermi di petto Verso Non All'esterno della porta No no Verso la porta Verso la porta Porca puttana Mo merda ragazzi Cioè Avete il cervello Che se c'è là un pesce Si annega per il culo Davvero Davvero Mamma mia Oh Ma cazzo siete messi Ma io non so Non ho parole Eh Sì vabbè 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 Adesso ragazzoli Ultima partita Per questo video Contro Il Gamba Usaka Ancora Vabbè Ennesima volta Tre partite Tre partite Contro il Gamba Usaka Speriamo davvero Di vincere questa qui Perché è fondamentale Perché come potete vedere Siamo quarti In classifica A 21 punti A meno 3 Dal Gamba Usaka Quindi questo Ci potrebbe proiettare Davvero molto su E molto vicini Alla prima posizione Quindi In casa In casa Del Gamba Usaka Con il suo Fascione Proprio Bello Bello Mamma mia Quante stelle C'hanno No davvero No sono nove Sono nove stelle Per il Gamba Usaka Mamma mia No No eh Addirittura Si è spenta Anche la fotocamera Su questo gol Che cazzo è successo Scusami Cioè Io mi sono buttato Cioè Ma Ma che Cavolo What No adesso Me la spiegate Sta cosa Comunque No 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 Io voglio replay Perché non ci ho capito Granché Aspetta Aspetta Dove Dove cavolo È passata No vabbè Guarda No dai Cioè Sopra la testa Lì così Ma io non ci credo Io non ci credo Ad Emilson Cos'è? Ah ma FIFA è realistico Io adesso voglio vedere Dov'è Dove è stata una partita Quest'anno O Anche proprio In Che ne so In cent'anni di calcio Un gol così brutto Adesso spieghiamolo Io lo voglio vedere Voglio vedere questo gol Visto che FIFA è realistico Dai Con la palla che gli passa lì così Il portiere che tiene l'altro braccio lì così Non è che lo stende Se Se Prenderò FIFA 18 Lo prenderò esclusivamente Per fare il nuovo Euronovar Che ovviamente non sarà Quello Euronovar Come avevo detto Nell'ultimo video Però Giusto per quella serie lì Perché è piaciuta E vaffanculo Tanto È piaciuta molto A me E anche a voi Ma Guarda Solo per quel motivo lì Perché guarda Tutte le Le aggiunte Le modifiche Le cose fighe Che hanno fatto Guarda Dopo queste stronzate Veramente E Ragassuoli Sorpresa Delle sorprese Proprio il Giappone Ci sorprende Sempre Ogni volta Incredibile Allora È finito il campionato Ma Ma Aspettate Aspettate Perché questo Campionato Perché il campionato La serie A Chiamiamola così Giapponese È diviso In prima In due fasi Si sommano queste due fasi E la prima Quindi la migliore In Classifica generale Quindi dalla somma Delle due fasi Va dritta Come potete vedere Dal tabellone In finale La Urawa Infatti È già in finale E noi Noi invece Siamo nei quarti E Contro La squadra Dei cerbiatti Che devo vedere Come si chiama Perché non mi ricordo A memoria Tutte le squadre E non so Dall'altra parte A destra Del tabellone Chi ci andrà In base a che cosa Non lo so Non lo so Comunque so già Che la migliore Va dritta In finale Quindi Purtroppo Purtroppo Ci toccherà Giocare Le altre partite Quindi Questa è l'ultima spiaggia Signore Questa è l'ultima spiaggia Visto che La leva in capa È stata vinta Dalla Hiroshima E che ha battuto La gamba Osaka Quindi Grandi Hiroshima Le hanno tirato Una bomba E le hanno fatti Saltare per aria E quindi Niente Adesso dovremmo fare Queste partite Che io penso Che siano Secche Secondo me Saranno secche Sia Quarti Semifinale Finale Ho proprio Questa sensazione E Quindi C'è un po' Gli sgoccioli Di questo campionato E dopo Nella prossima stagione Io spero davvero tanto Che la nazionale Giapponese Si faccia avanti Dicendo Ehi ciao Sei giapponese Se non lo sapevi C'è anche la nazionale Che gioca a calcio Vuoi venire a giocare Con noi mondiali Bene ragazzi Quindi questo video Può finire qua Io spero Questo vi sia piaciuto Se vi state lasciate Tantissimi like Qua sotto Lasciate tantissimi like Tantissime condivisioni Perché questa serie Cioè È una gran serie Lasciamo stare lo script Perché lo script Proprio coinvolge Tutta la modalità di FIFA Tutte e quante Tutte e quante Anche proprio La scelta Tipo tra calcio di inizio Ultimate Team C'è dello script anche lì Proprio nel menu di gioco Però vabbè Questo è FIFA Quindi Io vi chiedo Soltanto di rimanere Sintonizzati E rimanere qua Sul canale Perché Finiamo questo Diciamo Campionato 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 Giapponese Tutte le coppie Giapponesi Sono davvero Totalmente Diverse Al campionato Insomma Al calcio Italiano E europeo È proprio Tutto un altro mondo Davvero Quindi Sorpresa Soprattutto per me Ma penso Anche per voi Quindi Finiamo questa stagione Con questo campionato E dopo Speriamo Nella prossima stagione Con una chiamata Affortunata Dalla nazionale Come al solito Ricordo tutti i link Sotto in descrizione Per seguirmi Il link Delle magliette Del canale Con le spese Di spedizione Gratuita Il link Di Instagram Per seguirmi Il link Vabbè Non è un link È un indirizzo Per i pacchi Da spedirmi Noi ci siamo In un prossimo video Mi raccomando Stay tuned Stay Patrick Balla Ciao 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 Ciao